Una prima proposta di mediazione sarebbe già sul tavolo. Di fronte al rifiuto del Presidente della Regione, Rosario Crocetta, di far entrare in giunta deputati regionali di lungo corso, alcuni alleati della maggioranza spingono per dare spazio almeno a parlamentari alla prima legislatura e fuori dai tradizionali apparati. La Giunta Junior sarebbe una delle ipotesi in campo nei colloqui in corso tra i partiti della maggioranza e il Presidente della Regione. In questo scenario filtrano alcuni nomi, tra cui quelli di Fabrizio Ferrandelli del PD, Margherita Larocca Ruvolo e Gianluca Miccichè dell'Udc, Alice Anselmo di Articolo 4. In ogni caso si tratta solo di una delle proposte emerse durante le trattative in corso per il rimpasto di governo. Gli incontri oggi si sono spostati a Roma, dove Crocetta ha partecipato all'Assemblea tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e i rappresentanti delle Regioni. A margine ha incontrato anche Davide Faraone, responsabile del settore Welfare Scuola della Segreteria PD e negli ultimi tempi immediatore tra il Partito Siciliano e la Segreteria Nazionale. Secondo quanto fa sapere una nota dello stesso Crocetta, Faraone ha manifestato apprezzamento per il percorso di dialogo avviato tra il Presidente della Regione e il Partito Democratico Siciliano. Lo stesso Faraone ha poi incontrato una delegazione dell'Udc, composta dal segretario Cese e da Giampiero Dalia. Crocetta incontrerà personalmente i due esponenti Udc nei prossimi giorni. Intanto il segretario regionale del Partito, Pistorio, parla di un dialogo costruttivo avviato con il Governatore. Le priorità per l'Udc rimangono la conferma in giunta di tre assessori e un programma di governo che abbia innanzitutto la legge sulla semplificazione amministrativa e il DDL pagamenti, il testo unico sull'attività produttiva e i temi dello sviluppo.